Io ricevo veramente una quindicina di messaggi ogni giorno di persone che mi dicono eh ma il fisco, eh ma la finanza e per me questa è la vittoria di un governo che ha fatto veramente la contropropaganda, che ha fatto proprio, che ha un po' raggiunto quello che voleva, terrorizzare le persone quando accettare bitcoin è la cosa più semplice del mondo, è legale, lo accetti, paghi le tasse, lo dichiari come contante, non come post e basta, cioè è finito, però la gente è proprio terrorizzata. Ciao a tutti e ben ritrovati su Checkpoint Bitcoin. L'intervista di oggi è con Laura Nori e abbiamo parlato di adozione di bitcoin. Vedremo qual è lo stato delle cose in Sud America, in Italia, cosa sta frenando l'adozione di bitcoin e cosa possiamo fare per migliorare la situazione. Inoltre alla fine dell'intervista dovrete qualche suggerimento pratico per organizzare un viaggio in Sud America ed esplorare dal vivo l'adozione in quell'area del pianeta. Io sono Fabio, autore del sito web Checkpoint Bitcoin, un progetto divulgativo interamente focalizzato su bitcoin, sulle sue prospettive, quindi se vi interessano questi argomenti iscrivetevi al canale. Con questo vi saluto e vi lascio l'intervista. Benvenuta, Laura Nori su Checkpoint Bitcoin. Ciao, ciao Fabio. Felice di averti qui con il tuo setup super professionale alle spalle, che neanche i Beatles sono da Beroad. In realtà è rubato dal Bitcoin Italia Podcast, devo ammetterlo. È donato, è donato, è donato. È donato, assolutamente. È una donazione in nome della divulgazione. Assolutamente. Vi ringraziamo anche il Bitcoin Italia Podcast per il contributo. Ok, Laura, io ti ho invitato qui per parlare oggi di adozione di Bitcoin, quindi come Bitcoin sta scalando a livello sociale, perché Bitcoin deve scalare non solo con il protocollo, ma anche tra gli individui e tra le aziende. Tu, conoscendo un po' il tuo background, penso che ci puoi dare degli input interessanti per chiunque sia interessato a vedere Bitcoin diventare una moneta di quelle, sai, globali. Quindi oggi parleremo di questo, ma prima di iniziare, per chi non ti conosce, perché so che il mio pubblico è molto variegato, c'è il bambino di 12 anni, ma c'è anche l'ultracentenario, quindi magari non tutti ti conoscono. Dici un po' chi sei, di cosa ti occupi, come sei finita su Bitcoin e cosa stai facendo oggi nel mondo Bitcoin. Assolutamente, sarà molto breve. Io ho studiato a design del prodotto e comunicazione, quindi avevo un background artistico, diciamo. Appena finita l'università ho cercato lavoro e fino a che non sono riuscita a lavorare, a fare un logo, banalmente, per un'azienda di Hong Kong, che quando ha realizzato quanto difficile fosse pagarmi e quanto tempo ci avrebbe messo, mi ha chiesto se appunto mi poteva pagare in Bitcoin. Io sinceramente di questa tecnologia non sapevo nulla. Ho accettato, perché per me erano pur sempre soldi, all'epoca mi potevi pagare anche in banane, finché potevo cambiarmelo in euro e pagarmi l'affitto, andavano benissimo. Quindi ho accettato e lì per me è stata proprio un'epifania, cioè quando loro mi hanno scritto, ok te li abbiamo inviati e dopo dieci minuti mi sono arrivati i soldi, praticamente gratuitamente, senza vincoli, burocratici, eccetera, eccetera. Lì, diciamo, mi è esploso il cervello, quindi da quella che era una collaborazione, diciamo, temporanea, ho fatto di tutto per farmi assumere, quindi sempre sul lato marketing, design e comunicazione, però era un'azienda che ovviamente è tech, che lavorava nel settore, quindi da lì poi ho iniziato a studiare, a studiare Bitcoin e per me, onestamente, Bitcoin è stata un'opportunità lavorativa, non ho fatto i soldi con Bitcoin, mi cambiavo praticamente tutti in euro, quelli che mi davano, perché avevo bisogno di pagarmi uno stipendio, la scuola, qualche debituccio, quindi per me è stata proprio un'opportunità di carriera lavorativa, di collaborazione con aziende comunque internazionali, parlavo in inglese, eccetera, eccetera. Quindi mi sono, diciamo, poi nel tempo focalizzata su quell'aspetto di Bitcoin più legato all'adozione, all'adozione nelle strade, appunto, come hai detto anche te, nell'attività o dai singoli individui, quindi questa è un po' la mia storia. L'anno scorso e poi anche quest'anno abbiamo ripetuto la stessa esperienza con Ricky del Bitcoin Italia Podcast, siamo andati prima nel Salvador nel 2021 e poi l'anno scorso abbiamo fatto questo inverno, in realtà, un bel viaggio per il Centro America, che sono dei paesi che comunque stanno portando Bitcoin nelle strade, il Salvador, proprio dal punto di vista governativo, diciamo, nel 7 settembre del 2021 Bitcoin è diventato legal tender, quindi valuta questo legale di El Salvador e lì eravamo andati proprio per capire, ok, legal tender, ma la gente lo usa, cosa ne pensa, oltre alla capitale lo usano anche in mezzo alla giungla, il vecchiotto che vende banane lo sa che cos'è Bitcoin e poi abbiamo, diciamo, questo ne parleremo fra poco, esatto, esatto, quindi questo è quello che faccio adesso, riportare l'adozione di Bitcoin nel mondo. Quindi diciamo che adesso fai un po' come il reporter senza frontiere per Bitcoin, in un certo senso. Mi sacrifico per la scienza. Certo, 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 tu quindi hai, diciamo, hai viaggiato un po' negli ultimi due anni proprio per seguire l'evoluzione, l'adozione di Bitcoin, a partire appunto dal Salvador che ha fatto questa mossa spregiudicata di fare Bitcoin legal tender, ma c'è da dire che Bitcoin non è che deve essere legalizzato alla fine, altrimenti non avrebbe senso di esistere. Quindi, visto che sei stato un po' in Centro America, in Sud America, parlaci magari un po' di quella che è la tua percezione, di quella che è l'adozione in quei paesi. Cioè, qual è lo stato delle cose oggi in termini di adozione al Salvador, ma anche negli altri paesi che hai visitato, il Guatemala, mi ricordo, e qualcun altro. Costa Rica, Panama. Allora, ti devo dire una cosa. Perché poi faremo un parallelo tra quella parte del mondo e il bel paese, l'Italia, cerchiamo di capire che cambia, cosa cambia tra questi paesi e l'Italia che ci fa sempre dannare, che succede poi in Italia, vediamo. Ma partiamo da lì, partiamo quindi dal centro e dal Sud America. Allora, ti dico subito che quello che io pensavo, mi sarei trovato davanti, era un po' un paese dei balocchi di Bitcoin, nel senso, soprattutto il primo anno, quindi nel 2021, a qualche mese dall'entrata in vigore della legge. Io, onestamente, mi aspettavo proprio di arrivare lì e trovare un po' tutti i gasati, un po' tutti contenti di accettare Bitcoin, anche perché comunque in quel momento, non ti dico, non mi ricordo, non era proprio bull market, però comunque c'era un po' di alito. Era molto entusiasmo nell'aria. Era molto entusiasmo nel mondo in generale, in Italia, eccetera, quindi pensavo mi sarei trovata, diciamo, davanti delle persone molto più contente, preparate, eccetera. Poi, in realtà, siamo arrivate lì e non tutti accettavano Bitcoin, non tutti erano interessati a farlo, qualcuno era addirittura contro e questa è stata una cosa molto interessante. E ti dico la verità, tu giustamente l'hai detto prima, non serve un politico per rendere Bitcoin legal tender. Ti dirò di più, non solo non serve, ma, a mio parere, può addirittura essere controproducente. Nel senso che io ho visto tantissime persone non accettare Bitcoin o parlare male di Bitcoin, odiare Bitcoin, eccetera, semplicemente perché odiavano, come succede sempre, magari politico, comunque non l'avevano buttato per buchele. Diciamo che lì accettare Bitcoin è un po' come mostrare una certa preferenza per il presidente che l'ha reso legal tender, capito? Quindi capisci bene che non è una cosa buona da entrambe le parti, non è buono per chi rinuncia a quest'opportunità per delle preferenze politiche, ma non è nemmeno buono per chi magari adora il presidente Bukele e inizia ad accettare Bitcoin così per mostrare il proprio supporto, però magari poi di Bitcoin non sa nulla. Perché ti dico questo? In El Salvador, ad esempio, è stata rilasciata questa app di Stato, si chiama Civo, è un wallet Bitcoin custodial che funziona malissimo, è un disastro, ha un ledger interno con il quale ovviamente ti puoi inviare anche dollari e anche Bitcoin. Però il registro interno col quale ti inviare anche dollari non è altro che un'app come PayPal, cioè diciamo che di Bitcoin è veramente poco, entra in campo a Bitcoin quando ricevono un pagamento da un wallet esterno, però anche lì insomma è un disastro, è un'app che funziona malissimo e che la gente ha iniziato ad associare a Bitcoin. Quindi magari si scaricavano al Civo Wallet perché anche questo ricevevano 30 dollari in Bitcoin gratuitamente quando si scaricavano l'app, quindi immaginati quante persone se la sono scaricata, anche perché 30 dollari nel Salvador equivalgono a 300-400 dollari qui in Italia, quindi praticamente se la sono scaricata tutti, esatto. E tutti hanno iniziato ad usare quest'app, solo che magari era un disastro, le transazioni che sparivano nel nulla, qualcuno non è riuscito a prelevare i soldi perché gli avevano accherato l'identità, ovviamente solo il Salvador Regni la potevano scaricare, quindi dovevi farti un poesì, allora insomma è un disastro. E la gente l'ha iniziato ad associare a Bitcoin, quindi la gente ti diceva, eh Bitcoin non va, Bitcoin non funziona, tutto perché loro in realtà hanno scaricato Civo, non hanno scaricato un'app di Bitcoin. E quindi appunto hai il Bitcoiner gasatissimo che pensa che Bitcoiner sia Civo quando è l'anti-Bitcoin Civo praticamente, è un'app di stato, è uno spyware molto probabilmente. Funziona malissimo, è un leggere interno, cioè veramente è un disastro. Quindi diciamo che hai trovato, tu sei andata lì con tutto l'entusiasmo del mondo, pensavi che arrivavi là, ti aprivano le porte, si fa tutto in Bitcoin da un momento all'altro, invece poi ti sei diciamo resa conto che questo passaggio è un pochino più complesso, magari anche perché le persone hanno avuto meno modo di approfondire, c'è anche meno educazione. No, non hanno mai approfondito, esatto, cioè in televisione vedevi pubblicità di Civo, non vedevi pubblicità di Bitcoin, quindi per loro è come avere i PayPal, non so se lì a Malta c'è Satispay, qua a Milano si usa tantissimo, Satispay che è un'app per fare pagamenti istantanei, Cioè la gente comunque ha iniziato a pensare che Bitcoin fosse quello, nessuno in televisione ha mai detto per ovvie ragioni, è pur sempre un politico, accettate i pagamenti in Bitcoin per tutelare voi stessi, state la banca di voi stessi, cioè queste sono cose che nessuno ha mai detto, capito? Però volendo uno può farlo, cioè se uno del Salvador decide di mettersi e fare le cose come vuole lui, come farebbe, come faresti magari tu o una persona che ha comunque una comprensione migliore di Bitcoin, uno però volendo può farlo, non è che è obbligato a usare tutto. Purtroppo Civo è così tanto vantaggioso e comodo per alcune ragioni, tipo ci puoi legare il conto in banca per i pochi che hanno la fortuna di averlo lì nel Salvador, quindi è facilissimo comprare Bitcoin, ma anche convertire Bitcoin che hai ricevuto. Puoi pagare col numero di telefono, quindi ti posso inviare dei soldi tramite il numero di telefono senza nemmeno scannalizzare il QR code, è così tanto comodo che anche i bitcoiner, quelli che si definiscono i cyberpunk, alla fine usano Civo per X ragioni. Quindi è un po' una gabbia, è diventata un po' una gabbia, però sì, oggettivamente non posso dirti che uno non possa scegliere di fare opt-out totalmente, però ecco, alla fine è comodissima. Non gli conviene, diciamo, diciamo che funziona, in un certo senso funziona anche se non funziona, va? Eh sì. Cioè potrebbe essere meglio, però in qualche modo, qualche vantaggio lo porta alle persone, quindi... Sì, è molto più vicino alle CBDC. Finisce per essere utilizzato, no? Esatto, esatto. E senti, invece, a livello di percezione proprio delle... Ma vabbè, ok, c'è Civo che magari, secondo te, non va, non è bello, non funziona, si può fare di più, ma a livello proprio di percezione degli individui lì e del Salvador, che si sono trovati catapultati in questa realtà in cui hanno, possono usare Bitcoin, no? La tua percezione, cioè, hai avuto modo magari di parlare con i commercianti, con il venditore di banane, piuttosto che l'hotel, che ne so, di El Salvador, qual è la loro percezione su Bitcoin e cosa magari li frena un po' dal... cioè quali sono i limiti che stanno un po' riscontrandoli? Allora... Oh, dico El Salvador, ma possiamo anche stendere ad altri paesi, eh? No, esatto. Ecco, secondo me dobbiamo assolutamente fare la risposta. Anzi, stendiamo ad altri paesi, non sempre El Salvador, basta El Salvador. Ok, però c'è solo una cosa da dire. Allora, quando tu porti Bitcoin nei paesi del terzo mondo, ad esempio, ci sono delle cose che fanno sicuramente molta leva, tipo, che ne so, la stabilità monetaria, perché sì, diciamo tanto che Bitcoin è volatile, però ci sono dei paesi come il Venezuela, ad esempio, la quale valuta è molto più volatile di Bitcoin, motivo per cui lì Bitcoin diventa una salvezza. Ecco, nel Salvador questa cosa qui non c'è, perché loro hanno il dollaro. La stessa cosa vale, non lo so, basse commissioni di transazione, sì, figata, lì quello è un paese che si basa sul contante, quindi nessuno utilizza lì le commissioni. Noi ce le aumentiamo delle nostre all'1%, 0,5%, cioè lì le commissioni per la carta di credito sono del 15%, del 20%, quindi tutti utilizzano il contante. Quindi alla fine portare Bitcoin in un paese dollarizzato, quindi che non ha bisogno di una valuta alternativa, basato sul contante, quindi sta cosa delle commissioni, delle transazioni, loro non la sentono, è molto difficile. Secondo me questa è una cosa un po' miope che facciamo noi Bitcoiner, nel senso che diamo a Bitcoin delle... attribuiamo a Bitcoin dei vantaggi oggettivamente che non tutti hanno, di cui non tutti hanno bisogno, capito? Cioè secondo me le vere necessità di Bitcoin, tra virgolette, le dobbiamo ancora conoscere, dobbiamo ancora capire, dobbiamo ancora capire quali sono quei servizi, quei prodotti che renderanno Bitcoin la valuta globale, la valuta di Internet, perché detta così sarebbe come dire, non lo so, Internet ti permette di tracciare la lettera cartacea che hai inviato al tuo vicino di casa, no, Internet ti permette di inviare delle email, capito? Cioè tendiamo a pensare a Bitcoin come un sistema che efficienta la vita di tutti i giorni delle persone, in realtà Bitcoin è una tecnologia che permette di fare cose nuove, che molto probabilmente oggi non ci riusciamo nemmeno ad immaginare. Quindi trovare a tutti i costi dei motivi per cui Bitcoin renda la vita migliore alle persone è un po' una forzatura, che poi sia vero, ok, però non possiamo dire che... cioè non possiamo andare in El Salvador a dire Bitcoin, basse commissioni, stabilità monetaria, cioè hanno il dollaro, ti ridono dietro, capito? In confronto Bitcoin è volatile ed è uno sbattimento non da poco. Come hai detto tu, ci sono anche altri paesi che lo stanno utilizzando e quella secondo me è stata la parte più interessante del viaggio che abbiamo fatto quest'anno, quindi quest'inverno. Lì proprio c'è un approccio dal basso, quindi non c'è stata un'imposizione dall'alto da parte di un governo o di un presidente di Bitcoin, anzi il governo è contro Bitcoin, non è contro diciamo, però non lo incentiva sicuramente in nessun modo. E lì vedi secondo me la roba veramente figa, cioè lì vedi... Che cos'è che ti ha colpito di questi paesi? Mi ha colpito vedere come, ad esempio, delle aziende del Guatemala che operano su Bitcoin, che offrono servizi su Bitcoin, facciano delle campagne di marketing secondo me super efficaci, dopo magari ne parliamo più nella precisione, vanno nelle strade, vanno nelle piccole community, vanno nelle piccole città a distruire le persone su Bitcoin. Secondo me questa è una cosa che in El Salvador, ad esempio, tutti hanno un po' delegato al governo. Poi sono nate delle piccole associazioni, tipo MyPrimerBitcoin, che si occupa di formare la gente, soprattutto nelle scuole, su Bitcoin, però diciamo è una cosa che tutti sareste aspettato, diciamo, dal governo, non dai privati. In Guatemala questa cosa qui secondo me è proprio molto potente, anche perché lì hai proprio la possibilità di dire guarda che accettare Bitcoin vuol dire comunque essere la banca di te stesso, fare opt-out del sistema finanziario attuale, tutelare la tua privacy, togliere la leva monetaria dallo Stato, quindi c'è quella cosa lì un po' più punk, no? E si sente, si sente nelle strade, lo vedi dall'entusiasmo delle persone quando entri in un locale e paghi in Bitcoin, cioè loro, questi gasano, ti schiacciano il 5. In Guatemala hanno il dollaro o hanno la loro correnza? No, hanno il quetzales, hanno il quetzales, che però è piuttosto stabile, quindi diciamo anche lì non c'è molto il problema dell'instabilità monetaria. C'è il problema sicuramente dei conti digitali, nel senso che lì, soprattutto in Guatemala abbiamo notato questa cosa, pagare con la carta significa, sempre ammesso che l'accetti, no? Cosa piuttosto rara, significa pagare il 10-15% in più c'è proprio scritto in cassa, nel senso se vuoi pagare l'hotel con la carta ti costa il 10% in più che mi chiede. Esatto, che poi lì non è un problema molto, perché chi ha la carta è un ricco che alla fine è davanti, è un po' come lasciare la mancia per noi, capito? Ok, quindi... pochi euro diciamo, cambia poco. Esatto. Ok. Chi paga con la carta, paga tranquillamente anche il 10% in più, quindi non si lamenta. Ok, quindi lì avere Bitcoin è più conveniente anche perché puoi, come dire, scavalcare, come dire, i limiti, proprio, sì, le problematiche, i limiti. C'è molta consapevolezza, esatto, su questa cosa qui, le aziende fanno molta leva su questa cosa qui, c'è proprio nello spiegare le caratteristiche, le qualità di Bitcoin. Ci sono in particolare delle comunità, cioè anche, ci sono anche nel Salvador, magari poi andiamo a vederle più nello specifico. In Guatemala c'è il Bitcoin Lake, si chiama, è questo lago, si chiama Lago Atitlan, che è praticamente circondato da delle cittadine, la più grande si chiama Panahachel, e lì proprio è nato questo esperimento che si chiama Bitcoin Lake, che secondo me è uno dei più riusciti, dove, cioè, tu puoi andare in vacanza praticamente e divertirti un sacco perché è un posto turistico pazzesco, super divertente, ci vanno anche i locali lì e ci sono 30, 40 attività che accettano Bitcoin. Lì ci sono due ragazzi, uno americano e uno guatemalteco, mi sembra, bitcoiner, che hanno iniziato porta a porta a parlare con la caffetteria, con il mercato, con quello della barca, con quello del tuk-tuk, dirgli, ehi, abbiamo voglia di fare questa cosa figa, la gente da tutto il mondo verrebbe qui, quindi per te sono clienti in più, un metodo di pagamento che non ti costa niente, lo puoi cambiare in che sales quando voglia, no? Se sono offerti, ad esempio, magari di fare il loro cash out nel momento in cui volevano tipo cambiare, eh? E lì, una volta, cioè, poi noi pensiamo, no? Che sono cose che succedono in un giorno, cioè, ne hanno arrangipillati 30 in un anno, cioè, questo vuol dire che ogni 3-4 giorni riuscino ad arrangipillarne uno, però, vai lì da bitcoiner e ti rendi conto che puoi a tutti gli effetti vivere in Bitcoin, ed è una cosa molto figa. E poi l'oro si accetta Bitcoin, si fa anche una buona pubblicità adesso. Esatto. E se ne sono pochi che accettano Bitcoin, automaticamente, come si dice, ti fai notare perché sei già accettando Bitcoin, quindi un bitcoiner potrebbe anche decidere di spendere i suoi Bitcoin, una frazione ovviamente, perché non è che li spendi tu, però puoi spendere quei Bitcoin in un locale, già in un locale si fa pubblicità. Quello è vero per il Guatemala, ma è vero anche per la pizzeria sotto casa, no? Esatto. E questo è un po' la cosa che... Questi esperimenti, questi esperimenti che hai menzionato tu, si stanno diffondendo, ma sono portati per lo più da, come dire, da occidentali che vanno nei paesi in via di sviluppo e portano un po' il verbo di Bitcoin, mi pare di capire. Esatto. Esatto. Anche questa cosa qui la sono menzionata il Stavador e Guatemala, quindi andiamo, facciamo un salto in Costa Rica. Vai. In Costa Rica è proprio quello il caso, nel senso che un Bitcoiner americano ha deciso di trasferirsi in Costa Rica, lì comunque si è reso conto di avere un... vabbè, era un posto stupendo, ci sono un paio di attività, è anche un paese che sta emergendo molto, e l'ha provato a parlare di Bitcoin. È diventato ovviamente molto amico dei locali, è una persona strepitosa, parla in spagnolo, quindi si è integrato proprio molto bene nella comunità aveva incentivi nell'accettare Bitcoin, nel senso che per lui era più comodo comprare una macchina in Bitcoin piuttosto che in dollaro, in colonis, esatto, anche perché lì ci sono banche molto piccole, lì non hanno lo stesso problema degli unbanked, però ci sono delle banche molto piccole che offrono servizi piuttosto limitati, quindi Bitcoin era anche un'opportunità proprio figa e quindi è iniziato anche lui, è partito dai mercatini, è andato nel mercato locale, poi nelle pezzerie e è iniziato a parlare di Bitcoin, poi lì ne arriva uno, poi ne arriva un altro, poi se ne parla, ne arrivano altri cinque, però tutto diciamo parte sempre da uno, da una persona che ha una forte forza di volontà, vuole e ha bisogno di spendere i propri Bitcoin, quindi è un incentivo nell'andare ad arancipellare le persone, altrimenti è una cosa che diciamo non è scontata perché non è che uno la mattina si sveglia e dice vado a salvare il mondo, vado gratis a arancipellare tutti, cioè queste sono persone che comunque avevano anche un ritorno di comodità o comunque nel farlo e quindi tutto nasce un po' da lì e secondo me noi sbagliamo un po' in questo, nel senso che noi italiani pensiamo appunto che serva una legge per creare delle piccole local community circolabili in realtà basta prendere, provare, iniziare dal proprio bar preferito, dal proprio ristorantino, provare ad arancipellarlo, poi lì si innesca quel meccanismo di passaparola che è super efficace, è molto, ce lo dicevano anche loro questo, è molto più difficile arancipellare i primi 5 che poi da 30 arrivare a 50 perché lì vuol dire zero to one c'è quel famoso libro che parla di come sia molto più difficile passare da 0 a 1 che non da 1 a 10, 100, 1000 che è stato così anche con bitcoin in realtà quando ha iniziato a diffondersi i primi il network per partire all'inizio era molto più difficile che non oggi che c'è già un network solido e tutti resta vabbè comunque mi pare di capire che c'è un c'è il motivo di fondo finora di questa conversazione è che bitcoin ha tante proprietà ma non è che sono tutte importanti allo stesso modo per tutti i commercianti di tutto il mondo anzi per tutte le persone di tutto il mondo ci sono proprietà che sono più interessanti per uno proprietà più interessanti per un altro e così via ad esempio in El Salvador la stabilità non gli importa tanto perché loro possono usare il dollaro però magari se in Venezuela bitcoin è meno volatile della tua moneta fallimentare va meglio magari in Europa questo discorso non si può fare in nessuno dei casi però magari in Europa è più interessante il fatto che bitcoin sia inconfiscabile sia te lo puoi portare appresso e nessuno te lo può prendere sempre se hai le chiavi private quindi ognuno trova poi le proprietà che gli piacciono quindi senti esatto abbiamo visto che lì in Sud America ci sono più che altro delle problematiche a livello proprio di quasi culturali mi verrebbe da dire e invece in Italia perché in Italia le risorse ci sono però non mi sembra che poi io esco di casa e posso spendere bitcoin con molta semplicità in Italia quindi qual è invece la percezione che tu hai nel territorio italiano per l'accettazione di bitcoin quali sono le problematiche o lo scetticismo che tu noti di più allora questa è una cosa che vale un po' anche per quello che riguarda il centro america nel senso per quello che abbiamo visto però soprattutto in Italia quello che manca è l'utente finale cioè perché dovrei accettare bitcoin se nessuno è disposto a spenderli e questo secondo me è un problema fondamentale nel senso che noi in Italia magari comunque nei paesi del primo mondo tendiamo a vedere bitcoin come un asset speculativo e non come una tecnologia e diciamo che in un certo senso li capisco cioè voglio dire è difficile trovare il vero motivo per spendere bitcoin che non sia il voler tutelare la propria privacy o comunque voler togliere liquidità e smetterla di supportare il sistema fiat il sistema bancario tradizionale cioè diciamo che queste sono cose che fanno un po' gli estremisti tipo me tipo Ricky tipo i bitcoiner più hardcore che conosco però è difficile che una persona normale si sveglia e dica voglio oggi voglio spendere bitcoin voglio supportare solo che accetta bitcoin ed è qui che secondo me noi bitcoiner sbagliamo perché noi un piede dentro ce l'abbiamo rispetto agli altri no quindi questo voler odlare a tutti i costi no è diventato un po' obsoleto è un po' obsoleto come mentalità guarda sono d'accordo se tu ci pensi quando uno arriva in bitcoin questa cosa di holdare è molto forte e va bene che sia così però arrivato a un certo punto holdare è troppo facile cioè per un bitcoiner ormai per un bitcoiner che ha capito bitcoin holdare è troppo facile non è più una cosa che richiede alcuno sforzo psicologico alcuno sforzo sai caratteriale è una cosa che ormai hai capito e non ti costa nessuna fatica non ti costa nessun impegno invece spendere bitcoin che non vuol dire prendere tutti i tuoi bitcoin e portarli sull'exchange e fare trading non è quello invece spendere bitcoin è una cosa che ti richiede proprio un salto di mentalità perché tu lì capisci che bitcoin lo stai aiutando in maniera attiva perché lo porterai in mano a qualcun altro e quel qualcun altro potrà holdarlo spendere fare quello che vuole però finché tu contribuisci a far girare il network contribuisci alla scalabilità di bitcoin proprio a livello pratico perché il problema qual è che mentre bitcoin può scalare a livello di protocollo grazie all'impegno al lavoro degli ingegneri degli sviluppatori a livello sociale bitcoin può scalare solo con l'aiuto dei bitcoin che prendono i loro bitcoin e li spendono che non vuol dire che li devi spendere tutti cioè tutti quelli che hai perso con l'incidente nautico non li puoi più spendere ma una piccola frazione ti saranno rimasti nel wallet spendili quindi amici bitcoin e comunque li puoi ricomprare 5 minuti dopo prendete questi bitcoin una fazione dai non vi cambia nulla no e soprattutto li puoi ricomprare 20 minuti dopo ci sono un sacco di app ci sono un sacco di servizi e comunque questa è una cosa che allora ci sono due cose da dire una che niente erogipilla come una transazione potete sedervi col vostro vicino di casa con chiamare tutta la vostra città fare una riunione provare a spiegare il loro bitcoin ma quando gli fai scaricare un wallet custodial 30 secondi gli invii 5 euro sul Latin network senza che loro facciano verifica dell'identità e richieste 48 ore per verificare sto cazzo due giorni di bonifico se no ti costa un euro e sempre ammesso che funzioni perché quando lo provo io a fare non funziona mai e lì la gente rimane sconvolta io ho la certezza di questa cosa qui perché uno io sono stata orangipillata così cioè nel senso ho capito prima il potenziale di bitcoin con una transazione e due l'abbiamo visto cioè proprio non so se ti ricordi l'anno scorso c'eri tu al plan B di Lugano? no io ero in strada che di fianco al palco 21 che faceva informazione gratuita erano i ragazzi del Bip Show facevano informazione gratuita su bitcoin ai passanti io ero lì di fianco che aiutavo loro a fare scaricare un wallet gli inviavo 5 dollari offerti da Lugano con il quale potevano pagarsi la pizza nel baracchino della pizza lì di fianco che accettava solo bitcoin e quindi tu immagina la gente ciao vorrei la pizza ma non ho bitcoin ok scarica un'app quella che preferisci e già lì gli esplodeva il cervello qualcuno scaricava blu qualcuno moon qualcuno ce l'aveva già wallet of satoshi ok bene adesso avete un wallet gli inviavo tipo 5 euro e te lo giuro c'era anche gente di 50-60 anni che rimaneva così non ci potevano a credere e mi dicevano ma quindi io adesso le posso spendere già nella pizza avevano gli occhi veramente lucidi non ci credevano e questa cosa qui orange pilla più di tutte quindi si sono d'accordo con te ho avuto anche io modo di vivere un'esperienza simile anzi più in più di una circostanza però di recente mi sto rendendo conto che alla fine queste piccole cose pratiche in cui tu alla fine ti trovi a poter ricevere o usare bitcoin hanno molta più potenza hanno molto più funzionano molto meglio che non fare discorsi sul censorship resistant 21 milioni asset scarso non inflazionabile network decentralizzato moneta fiat che diluisce il potere cioè tutte queste cose sono un pippone che uno non riesce poi a cogliere nella praticità no? nella praticità avere i tuoi soldi in tuo controllo magari ha molta più leva che non fare tutti i pipponi accademici che io amo però non li amano tutti anch'io però non sono efficaci come farlo vedere tu pensa a dover spiegare internet a tua nonna rispetto a quando non so se ti è capitato io ad esempio fai la videochiamata con la nonna fai la videochiamata con la nonna la nonna cioè non ci crede io è così che ho spiegato bitcoin a mia nonna le ho detto nonna ti ricordi quando eri in america e ti ho chiamato sì 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 ecco immagina che adesso ti potrei anche da quella videochiamata inviare dei soldi cioè lei tipo adesso che ho capito che cosa che è bitcoin cioè ovvio che è incompleto superficiale eccetera eccetera però la pratica proprio aiuta molto di più e quindi cavolo andate a spendere 5 euro dal pizzaiolo e ma poi gli puoi dire che ne so pago ti pago il conto in euro però magari ti lascia la mancia in bitcoin col tassista funziona col ristoratore funziona col tuo amico che è al bar funziona dai ti mando un euro in bitcoin solo per farti vedere come funziona raga è un euro perso magari ti fai offrire la birra dopo non lo so però raramente una persona torna indietro quando ha scaricato l'app quando ha ricevuto il suo primo bitcoin il passaggio da non sapere niente a scaricare l'app è molto più duro secondo me rispetto a quando hai scaricato l'app hai ricevuto una transazione magari neppure hai fatta una a poi diventare un bitcoiner cioè diciamo quel gap lì lo si risolve solo prendendo i nostri satoshi andando a spendere 5 euro raga 2 euro non stiamo dicendo andando a spendere un bitcoin intero e poi lo si ricompra cioè se ti va di culo ci guadagni pure voglio dire lo spendi quando è più alto e lo ricompri quando è più basso ci sono un botto di servizi guarda secondo me non bisogna fare neanche troppi calcoli è un euro ci guadagno ci sto perdendo cioè dai è un giorno della tua vita una minima frazione di tutto quello che potrai guadagnare nella tua esistenza lo spendi fai bene a bitcoin quindi se ne hai persi tanti con l'incidente nautico che ti pensierai di questa cosa però voglio dire contribuisce al network il network crescerà migliorerà poi il guadagno non è solo economico c'è anche un guadagno sociale se hai capito bitcoin sai che il guadagno non è solo a livello economico anzi è principalmente a livello di società di libertà e di quel sai di quel mondo migliore che penso che tanti bitcoiner vogliono ricreare in qualche modo certo e poi secondo me il lightning network è stato fondamentale per questa cosa qui perché loading ci poteva stare quando si parlava di bitcoin on chain cioè oggettivamente non era istantaneo non era le fie erano per quanto altro possano essere rispetto al sistema finanziario tradizionale però comunque 50 centesimi un euro difficile era un'esperienza un po' più lenta esatto pensare di pagare un caffè on chain ci poteva stare però io sinceramente all'epoca era una cosa che vedevo più fattibile per acquistare o vendere dall'estero per me ad esempio era più economico ricevere bitcoin o pagare in bitcoin che ricevere un bonifico però l'idea di pagarmi un caffè su bitcoin non cioè per me era impossibile quando poi ho visto il lightning network lì è cambiato tutto qualcuno ha davvero il coraggio di dire che bitcoin non sia una moneta di pagamento perché non lo so probabilmente gli mancano gli ultimi due anni di storia di bitcoin perché è istantanea è veloce è praticamente gratuito puoi fare le microtransazioni un euro non lo puoi dividere sotto di un moneta il lightning network secondo me ha pure portato un livello di usabilità di bitcoin che è molto superiore alla parte on chain esatto per gli utilizzi che ne puoi fare cioè più immediato non è che superiore è più immediato quindi si presta molto meglio bene bene che ci sia anche se mi rendo conto che ancora non è molto diffuso lightning network però comunque facendo un passo indietro abbiamo capito che quindi una delle problematiche alla fine dell'adozione dell'Italia sono proprio i bitcoiner che stanno lì a capito a controllarsi ad autocontrollarsi dire no io faccio esatto vederlo solo come una riserva di valore quando prende valore se viene utilizzato come tutte le cose noi facciamo sempre l'esempio è come avere una quota dell'azienda coca cola ma bere pepsi no c'è il famoso detto di Warren Buffett lui dice sono uno dei più grandi investitori di coca cola ogni mattina mi sveglio e bevo una coca cola non bevo una pepsi è come avere delle quote di apple e comprare oppo è come avere delle quote di tesla e c'è nel senso vabbè magari una tesla è un po' più costosa di un iphone però c'è tu utilizzando bitcoin stai anche aumentando il valore dell'asset che poi tu hai come serva di valore però lo devi utilizzare se tu hai bitcoin e tutti utilizzano gli euro i tuoi bitcoin perdono valore quindi proprio non ha nemmeno senso non è neanche un ideale non ha proprio un senso pratico fare questa cosa qui io direi anche un'altra cosa cioè da un lato è vero ci sono magari i bitcoiner che non fanno un po' fatica ancora a come dire a slegarsi da questa questa mentalità old che secondo me è una cosa che cambierà nel tempo perché vedo che molte più persone stanno comunque distaccando da questa da questa percezione però devo dire che anche i commercianti secondo me sono un po' resti soprattutto in Italia magari ci si fanno delle paranoie sai livello ah ma poi fiscalmente come l'ho tratto ma poi è legale o ma non è che mi arriva la guardia di finanza siamo terrorizzati io ho potuto questa percezione concordi mamma mia no vabbè per me sinceramente questa è una cosa che vedo tutti i giorni nel senso che io dicevo veramente una quindicina di messaggi ogni giorno di persone che mi dicono eh ma il fisco eh ma la finanza e per me questa è la vittoria di un governo che ha fatto veramente la contropropaganda che ha fatto proprio che ha un po' raggiunto quello che voleva terrorizzare le persone quando accettare bitcoin è la cosa più semplice del mondo è legale lo accetti paghi le tasse lo dichiari come contante non come post e basta cioè è finito però la gente è proprio terrorizzata si può fare mica è illegale però il problema è come dicevamo prima che non vedendo loro un vero motivo per farlo ovvero nessuno è disposto a spendere bitcoin fanno un po' fatica quindi ho visto anche viaggiando qui in Italia il l'attività che accetta bitcoin è il bitcoiner che è pure disposto addirittura a farti uno sconto se paghi in bitcoin però nasce come bitcoin è proprio uno che ha capito che accettare bitcoin è il modo più semplice per accumulare è la moneta migliore con la quale ti puoi fare pagare però questa cosa è difficile farla capire al commerciante secondo me noi in Italia dovevamo puntare un po' più sul marketing nel senso guarda che se accetti bitcoin è gratuito non ti costa niente puoi ottenere clienti in più visibilità in più perché comunque hai delle persone molto appassionate perché comunque noi bitcoiner c'è da dire abbiamo tanti difetti però ci piace supportare le persone quindi se c'è un locale che accetta bitcoin io almeno personalmente ci vado super volentieri ci faccio la storia ci faccio il video ci faccio il rilino cioè alla fine è marketing gratuito praticamente quindi alla fine ricevi più clienti e vuole che ci sono bitcoiner che ci vanno e poi pagano con la carta di credito ti dico solo questo però intanto comunque ci vanno il nome gira cioè comunque ci sono dei dei locali conosciuti praticamente in tutta Italia da tutti i bitcoiner dove uno sa che se passa non lo so per Lucca in quella pasticceria lì in quel ristorante lì in quel bar lì so che ci vado e quindi secondo me in Italia esatto in Italia dovremmo fare leva su questa cosa qui sul marketing e poi ovviamente andare a spenderli e fargli vedere quanto è facile quanto è semplice ok ora Laura cambiamo argomento abbiamo parlato largamente di adozione adesso spostiamoci un po' nella parte più pratica se vuoi tu hai viaggiato tanto hai visto diversi paesi dove comunque si può usare bitcoin quindi ti chiederei per uno che vuole un pochino provare anche a fare qualcosa di simile sai magari andare nei paesi dove si può spendere bitcoin o dove puoi vedere l'adozione in tempo reale ok quali sono dei suggerimenti delle cose che è importante capire prima di partire o per organizzarsi un viaggio magari usando anche bitcoin allora innanzitutto consiglio di dividere io parlando di tappe farei El Salvador e Guatemala insieme nel senso che alla bitcoin beach secondo me bisogna andare è un po' diciamo dove è nato tutto se qualcuno non conosce la storia bitcoin beach è El Salvador giusto? è El Salvador esatto è una comunità locale che era nata quattro anni fa molto prima del legal tender non aspettate che tutti lì accettino bitcoin non aspettate che tutti lì siano favorevili a bitcoin però è inutile negare che è il luogo dove tutto è nato che ha ispirato poi tutte le altre comunità locali quindi io consiglierei di fare un viaggio unico e salvador bitcoin beach fare un bel giro magari delle spiagge del paese e bitcoin lake guatemala quindi unirei questi due se volete viaggiare bitcoin guatemala lake però lì a livello ad esempio a livello pratico uno avrà da un lato il wallet con i suoi bitcoin e dall'altro si deve prelevare dollari o può usare la carta tradizionale in El Salvador potete anche non prelevare nel senso che ci sono grazie appunto al legal tender ha fatto anche qualcosa di buono ci sono diversi ATM dove puoi prelevare è molto più economico prelevare lì da quegli ATM lì di cibo che prelevare praticamente dagli ATM tradizionali dal proprio conto in banca o cambiare soldi quindi io partirei proprio tranquilla ovviamente non so con 100 euro con 100 dollari nel portafoglio proprio per però anche i tassisti all'aeroporto accettano bitcoin e poi prelevare se vuoi dei contanti dagli ATM di bitcoin lì nel Salvador in Guatemala non è così semplice nel senso che non essendo legal tender non è così semplice accettare bitcoin cambiarli e quindi lì ti servirà prelevare i quetzales la loro valuta però nel bitcoin lake puoi tranquillamente vivere in bitcoin cioè puoi avere zero quetzales in tasca tu puoi tranquillamente vivere in bitcoin anzi io lo consiglio nel senso quello che noi facevamo era ciao accettate bitcoin sì ok mangiamo qui no mi dispiace ho solo bitcoin non ho carta non ho contanti questa cosa qui è molto utile perché intanto è fan same poor glielo avete detto anche esatto no e poi loro capiscono che c'è gente ci sono turisti che vengono lì per quella cosa lì che hanno solo bitcoin quindi non è sicuro al 100% però magari il giorno dopo accettano bitcoin e senti quando dici possono vivere possiamo lui puoi vivere in bitcoin intendi tutto dall'albergo all'albergo al taxi al noleggio della macchina cioè puoi fare riesce a fare tutto cioè più o meno tutto paragliding paracadute siamo riusciti a fare ecco una cosa che consiglio di fare le cose importanti tipo gli hotel non aspettatevi di arrivare lì e trovare subito un hotel che accetta bitcoin le cose più diciamo come gli hotel vi consiglio di chiamare prima farvi magari una lista di hotel presenti nella zona in cui volete andare provare a chiamare e vedere se accettano bitcoin così siete sicuri questa è una cosa che si può fare lì di bello in salvador e in guatemala per chi viaggia cioè quali sono le attività in salvador io ti dico la verità mi farei mi farei solo due giorni nel senso se l'obiettivo è quello di viaggiare in bitcoin purtroppo nel salvador per le ragioni di cui vi ho imparato prima oggi c'è veramente poco quindi io farei bitcoin beach e poi andrai in guatemala nel senso penso ad un viaggio di dieci giorni io farei così farei tre giorni nella bitcoin beach magari uno nella capitale e poi andrai in guatemala dove puoi fare veramente un sacco di cose è proprio un posto divertente puoi fare paragliding tutto in bitcoin fare il gioretto in barca il lago è un insieme di è circondato da delle cittadine più piccole è molto bitcoin friendly dove puoi fare non so c'è questa città si chiama San Marcos sono un po' hipster yoga non so vedere le stelle ti vendono persino le droghe in bitcoin quindi ciao mamma che guarda questo video quindi è molto figo quello è un viaggio secondo me molto carino di dieci giorni dov'è questo posto? il bitcoin in guatemala lago titlan lago titlan in guatemala questo con capi di le stelle le droghe si San Marcos San Marcos la prendete nota San Marcos San Marcos è sempre lì sul lago titlan è molto bello perché lì puoi vendere le droghe illegali non è che stai facendo una cosa illegale o sbaglio o non c'è una non so mi informerò ti faccio sapere poi c'è anche Antigua che è una città stupenda sempre in guatemala anche quella molto bitcoin friendly sempre grazie alle aziende di cui ti ho parlato prima che fanno un sacco di formazione è anche Antigua magari dopo ti scrivo tutte le città carine la Costa Rica secondo me è un viaggio che dovresti fare a parte proprio perché sono distanti geograficamente parlando e costoso anche il viaggio interno quindi è una cosa che farei ah esatto lì come ti muovi nel centro e sud America tu Salvador e Guatemala bus cioè noi abbiamo fatto un bus c'è un bus il trasporto locale diciamo sì sì ma ci sono bus notturni viaggi otto ore sono praticamente dei divani è comodissimo e appunto super economico quanto costa per capire da El Salvador al Guatemala? dai 20 ai 40 dollari tipo aspetta io parlo di appunto il Tunco che è la città vicino alla Bitcoin Beach e Bitcoin Lake quindi c'è il Guatemala è gigantesco quindi però le due località lì sono mi pare 8 ore di differenza 10 massimo fattibilissima in bus quindi è un bel viaggio abbastanza lungo no? sì però te addormenti stai bene sì sì poi le distanze sai com'è in America sono tutte diverse da quelle italiane invece la Costa Rica è un altro viaggio che mi farei a parte però da fare nel senso che Uvita è proprio una realtà anche quella puoi fare tutto in Bitcoin cioè puoi davvero partire senza poi magari ecco il taxi dall'aeroporto Uvita lo devi pagare in dollari però una volta che arrivi lì caffè ristoranti hotel tutto in Bitcoin e lì è ancora più figo perché puoi pure andare al mercato del paese a pagare le verdure le banane le zucchine in Bitcoin e la cosa interessante è che lì ci vanno pure i ristoratori a fare la spesa quindi lì c'è la vera economia circolare nel senso che il ristoratore va a fare la spesa in Bitcoin perché ha ricevuto magari dei Bitcoin dai clienti e poi tu vai al ristorante paghi in Bitcoin quindi lì non esiste il circuito o comunque il sistema finanziario tradizionale quindi è una cosa molto figa da fare e poi la Costa Rica è stupenda comunque come Salvador e come Guatemala sono delle aree veramente bellissime più costosa ecco più costosa più costosa la Costa Rica sì non abbiamo detto questa cosa qui in Guatemala te la cavi con 30 euro a notte di un hotel dai 30 ai 50 ai 100 poi se vuoi fare se vuoi andare in hotel ma ci sono anche soluzioni alternative esatto ci sono gli ostelli anche quello tutti in Bitcoin nel senso che una cosa bella del Guatemala è che c'è moltissima scelta invece nel Salvador sta diventando una cosa un po' d'elite la Bitcoin Beach nel senso che che accettano Bitcoin alla Bitcoin Beach sono gli hotel a 5 stelle per i Bitcoin ricchi cioè questo è un po' il problema la deriva che sta prendendo nel Salvador mentre in Guatemala è molto più per la Plebs e quindi è molto bello perché puoi trovare l'ostello da 20 dollari che accetta in Bitcoin fino all'hotel a 5 stelle che accetta Bitcoin però è molto figo o il ristorante piuttosto che la piadineria quindi anche proprio parlando di prezzi consiglio il Guatemala assolutamente la Costa Rica inizia ad avere prezzi milanesi milanesi wow la ragazza la Costa Rica andateci con Bitcoin a un milione non prima mi raccomando esatto Bear Market Guatemala Bull Market Costa Rica ok ok e senti a proposito di Sud America domanda classica ma lì hai avuto paura per la tua incolumità o è questa ancora una come dire pericolosa o no è più un mito no non è un mito nel senso che oggettivamente quando viaggi soprattutto magari in paesi in via di sviluppo eccetera è importante saperti comportare ci sono delle cose che non vanno fatte tipo girare sbronzo alle due di notte magari mezza nuda se sei una ragazza per le vie scure cose che magari farei a Milano ma non farei ma secondo me neanche a Milano ti conviene farlo no certo però sono cose che bisogna guardarsi anche a Milano Milano per dire un po' tutta Italia esatto un po' tu come tutte le grandi città o comunque dove tutti i paesi soprattutto se c'è un alto tasso di povertà devi stare un po' più attento io non mi sono mai sentito in pericolo salvo magari qualche circostanza in cui eravamo finiti in viette sterrate dove ci avevano detto di non andare con la gente che ti guarda un po' strano ma magari banalmente perché sei un turista e loro non sono abituati in certe aree quindi forse c'è anche un po' però ti devo dire la verità no non mi sono mai sentita in pericolo non c'è stato un momento in cui ho detto cazzo adesso muoio mai mai assolutamente come ti dicevo abbiamo viaggiato in modo molto responsabile quindi la sera magari o si sta a casa o si favoriscono posti diciamo più frequentati comunque no cioè se dovessi essere sincera bisogna fare attenzione non essere azzardati però parlo ovviamente delle zone turistiche cioè lì i problemi che ci sono anche se si parla di criminali diciamo avvengono tra nei paesi un po' più tra locali ecco non avvengono nel centro nella capitale leone nei posti più turistici la loro intenzione non è quella di fare casino con i turisti ok e senti invece a livello di visti e tutte quelle cose burocratiche come funziona nel Salvador o Guatemala come proprio a livello pratico no non ci sono visti chi non c'è mai stato nel senso che ok no possiamo poi andare tranquillamente nel Salvador mi pareva cioè puoi stare 90 giorni adesso mi pare che il Salvador abbia steso il visto a 180 e però se tu arrivi lì o lo devi chiedere prima il visto no no non c'è visto arrivi lì e puoi stare il visa lo chiedi lì in aeroporto non chiedi no no non lo chiedi entri basta no no easy e però poi puoi stare 90 giorni o 180 mi pare che abbia appena esteso il visto 180 giorni il visto turistico quindi lo chiamano visto ma in realtà è il permesso per rimanere lì dentro legalmente ecco e poi puoi viaggiare tranquillamente tra i vari ti danno un foglio lì ti danno il foglio di via no come si chiama no niente ciao benvenuti niente come se vai in Francia sì sì eh vabbè non lo sapevo dai no ma per dirti è stato più uno sbattimento infatti ecco un'altra tip evitate di volare negli Stati Uniti come scalo perché cioè ti devi fare resta arrivi ti perquisiscono anche il buco del culo scusate il francesismo ma cioè ti fanno come se dovessi stare in America cinque anni e invece devi solamente fare uno scalo file lunghissime per fare cosa poi uno scalo quindi per noi è stato veramente andate in America se vi piace la sorveglianza mettiamola così no e se dovete rimanerci in America cioè se dovete andare a New York è ovvio che ve li dovete fare quei controlli lì e pagare l'est eccetera eccetera però se dovete andare in El Salvador piuttosto ad esempio passate come abbiamo fatto noi per il Canada o ecco trovate delle alternative perché non ha senso farti più sbattimento per l'America ok questo è un buon suggerimento evitare l'America perché ti complichi la vita tanto ok esatto ok però ok quindi abbiamo detto visti non ce n'è bitcoin li puoi spendere sono bei posti quindi non sono neanche così pericolosi come uno potrebbe come potrebbe credere no quindi direi che un salto si può fare per dirci poi sono anche abbastanza economici credo sì allora vi faccio l'itinerario partite il zonte vi fate due giorni se vi piace surf potete stare di più se non vi piace surfare non c'è un cazzo da fare è veramente un villaggetto sperduto nel nulla con due catapecchie e cinque hotel di lusso quindi nel senso è un po' così però è da vedere perché è un contesto diciamo beh per noi magari italiani a cui non siamo abituati quindi è molto carino da vedere però io mi farei tre giorni poi prenderei il bus e andrei all'Aguatitlan in Guatemala che è divertente lì fate barca paracadute la notte pazza guardando le stelle tutti drogati pagando in bitcoin e poi magari Antigua che è la vecchia capitale del Guatemala anche quella super bitcoin friendly è proprio una cittadina secondo me da vedere stupenda e poi non lo so riprendete il volo magari da Guatemala City e tornate a casa cioè per me questi sarebbero dieci giorni di viaggio cioè puoi trovare da 600 fino a 1300 dipende quanto prima prenoti stagione lì c'è la stagione delle piogge tutta quindi da ottobre ti direi fino a giugno quindi d'inverno bisogna favorire il periodo invernale la stagione delle piogge finisce ad ottobre meglio novembre diciamo ad ottobre in poi va bene sì fino ad aprile tipo maggio poi inizia a piovere comunque guardate su Wikipedia che non sbaglia mai però ecco non fate l'errore di andare tipo a Ferragosto che vi beccate due settimane di pioggia e magari non ne vale la pena ok questo è importante da saperlo perché poi perché lì le stagioni sono invertite quindi l'estate di qua diciamo fa sempre caldo esatto cioè fa sempre caldo però la nostra estate da loro è la stagione delle piogge mentre l'inverno è caldo però sole ok va bene Laura direi che siamo in chiusura quindi ti faccio la domanda di rito che faccio a tutti gli intervistati su questo canale sono curioso di sentire la tua risposta allora tu devi prendere bitcoin nella sua interezza ok le sue proprietà tutto ciò che bitcoin rappresenta per te e tutto ciò che bitcoin è qual è quella singola caratteristica quella singola sfumatura che per te è la più importante e che ti tiene ancora su bitcoin è la borderless cioè la possibilità di ricevere pagamenti senza confini geografici oppure cratici cioè per me questa è la cosa che cambia tutto penso ai giovani come me quindi poter ricevere dei soldi gratuitamente da qualsiasi parte del mondo anche nei paesi in cui fino a 2009 non avevano proprio un'infrastruttura digitale o bancaria per inviare denaro per me quella cambia tutto cioè potrei adesso in questo momento ricevere una tip da un non so indiano che per qualche motivo sa l'italiano e vedrà questa life cioè per me questa è la cosa che cambia tutto ok borderless sì questo è molto interessante la trasferibilità di bitcoin ovunque è effettivamente molto importante anche per chi usa internet lavora su internet o comunque insomma è è la particolarità di bitcoin no? che si sposta non solo nel tempo ma anche nello spazio scala bene ok Laura per tutti quelli che non ti conoscono e sono rimasti folgorati da questa intervista dove ti si può trovare dove sei collocata allora non vedo il mio derizzo di casa ma quello digitale sì ovvero lorinaura l-o-r-i-n lorinaura invece che lauranori sono simpatica su instagram idem su twitter su tiktok ho tre followers quindi anche lì lauranori btc se mi volete supportare e basta fine ok benissimo quindi ragazzi chi è interessato a seguire le avventure di Laura che poi avete anche questo nuovo canale bitcoin explorer no scusami esatto secondo me allora mi chiedi proprio sul momento marchetta mi chiedi di me assolutamente bitcoin explorers quindi su instagram su twitter su youtube abbiamo un canale dove abbiamo documentato tutto questo che io ho detto settimana per settimana quindi partendo dal salvador costa rica guatemala e panama che non abbiamo parlato ma troverete un video molto presto e quindi seguite il canale iscrivetevi su youtube mi raccomando bitcoin explorer è il canale dove praticamente documenti di tutta questa il reportage dell'adozione di bitcoin in giro per il mondo ok Laura ti ringrazio per la chiacchierata mi ha fatto piacere e noi ci sentiamo sicuramente ci sentiremo va bene yes un saluto a chi ci sta guardando ciao ciao ciao